La Lega Nord ha ottenuto da parte del Governo un parere positivo sull'impegno a togliere il permesso di soggiorno e la patria potestà ai genitori immigrati che obbligano la figlia minorenne a sposarsi. Questo per porre fine a quella bovinevole pratica diffusa prevalentemente presso le comunità straniere di religione islamica dei matrimoni forzati che vedono vittime tante, tantissime ragazze minorenni. In Italia si parla di 2.000 casi, nel resto d'Europa il fenomeno è ancora più diffuso, si pensi solo che in Francia sono 60.000 i casi che vengono registrati praticamente tutti gli anni. In Germania siamo sui 3.000 casi e in Inghilterra fra i 3.000 e i 5.000 casi. Le comunità presso le quali è più diffuso questo tipo di fenomeno sono le comunità di religione islamica ed in particolare la comunità turca. Quando qualcuno sostiene che la Turchia debba entrare ad ogni costo nell'Unione Europea dovrebbe ricordarsi anche di questa pratica molto diffusa e accettata anche dalle autorità in Turchia. Si pensi che in Turchia i casi ogni anno coinvolgono circa 20.000 ragazze che spesso non raggiungono i 14 anni. Vale la pena infine di ricordare che per la religione islamica una ragazza, una bambina è maggiorenne praticamente e quindi può concludere matrimonio appena superati i 9 anni.